ciao andiamo a guardare un po le impostazioni video della o m1 in questa macchina micro 4 terzi abbiamo video fino a 4k con 60 frame al secondo oppure possiamo salire con il numero di frame al secondo fino a 120 o anche fino a 200 però in quel caso la risoluzione passa da 4k a 1080p e senza audio ho fatto un video riguardante tutte queste impostazioni metto il link da qualche parte guardiamo come impostare la macchina allora iniziamo col dire che ci sono secondo me due modalità comode per fare video uno utilizzando la ghiera superiore della macchina fotografica e selezionando la modalità video passiamo da una modalità foto ad una modalità video dicevo ci sono secondo me due modalità diverse una è questa qui di utilizzare la modalità video nella ghiera dei programmi superiori un'altra è quella di associare un tasto rapido ad esempio il tasto di record che abbiamo sopra la macchina al video in questo caso io mi metterò per esempio in modalità custom mode oppure modalità m oppure modalità s quello che è a eccetera vado sul menu posso andare sui menu nelle impostazioni della macchina fotografica qua dove abbiamo i pulsanti e posso dire che il tasto questo qua superiore che è tra l'altro il tasto rec è impostato per fare video quindi io sono nella modalità foto sto scattando una foto e improvvisamente posso cliccare il pulsante e questa macchina mi farà il video il mio problema in questo caso però è che non sono in grado di verificare quali siano le impostazioni del video prima di avere lo scatto perché in questo caso facciamo finta che io stessi facendo un po di foto ho impostato la mia macchina in modalità priorità di diaframmi a 5,6 gli iso vengono portati automaticamente 2 5 spingo semplicemente il tasto rec la macchina inizia a registrare coi valori che avevo nel impostato nella modalità video quindi mi genera confusione perché io pensavo di scattare di fare un video con un diaframma chiuso 5,6 invece mi è ritornato 2,8 quindi questa modalità tasto rapido aiuta ma tra in inganno quindi a questo punto preferisco non utilizzarlo girare la levetta superiore e ho visualizzato i parametri del video direttamente qui e quindi ho una preview di come girò il video questa è una impostazione è una particolarità che può trae un inganno quindi vi consiglio di prestarci attenzione bene dopo aver visto l'utilizzo del tasto rapido rec ritorniamo ad utilizzare la modalità video dalla rotella delle modalità vediamo un attimino quali sono le impostazioni che abbiamo nella macchina andiamo nel menù abbiamo una voce del menù nella o m1 dedicata proprio ai video in questo abbiamo tutti le impostazioni dei video pranne uno l'autofocus che è curioso non sia qui bisogna andare nel menù degli autofocus indietro di uno e scegliere il movie autofocus che è l'impostazione dell'autofocus per i video queste sono tutte le impostazioni video che abbiamo normalmente quindi il h264 h265 il 265 ci permette di scattare 10 bit oltre al videocode che abbiamo subito in basso subito sotto la risoluzione e il numero di frame a secondo che possiamo selezionare se spingiamo ok abbiamo la possibilità di scegliere fra alcuni preset quindi in questo caso qui per esempio 4k quindi seleziono questo o il classico 4k 60p questa è la modalità massima che abbiamo nella m1 mentre nelle m1 mark 3 e nella m1 x abbiamo un 4k 30p a 30 frame al secondo possiamo selezionare la modalità anche in questo caso io ho scatto sempre in modalità m quindi ho trovato comodo mantenere la modalità m anche nella risoluzione video in questo caso posso selezionare sia i tempi che il diaframma e lascio normalmente nella modalità m gli iso automatici ovviamente bisogna poi stare attenti che il video non sia sovraesposto lo scandal flicker serve essenzialmente per evitare il flickering delle luci artificiali però io normalmente io utilizzo video in esteri o in esterni quindi lo lascio off abbiamo dietro abbiamo anche il teleconverter digitale anche per me questo eventualmente abbiamo l'opzione anche di avere il teleconverter attivo andiamo avanti sulla destra questa è la tipologia di di video e abbiamo la possibilità di scegliere fra m lo 400 a bassissimo contrasto che ci serve per fare in modo che il video sia colorizzabile in post produzione questo qui è piatto anche questo bassa saturazione bassa costrata con il contratto sono essenzialmente tre tipologie diverse perché per avere un basso contrasto che è molto importante nei video perché si sbaglia l'esposizione nei video poi è praticamente casino recuperare quindi non è come nelle foto con i raw quindi meglio utilizzare questi log qui e poi colorizzare in seguito perché sono bassissimo contrasto sono molto meno piatte questi questi log rispetto alle panasonic quindi giusto per darvi indicazioni se conoscete i log di panasonic altrimenti deve usare questa impostazione qui che farà un video diciamo con la stessa impostazione che come se usasse la macchina fotografica però per perché la m1 mi dice in questo caso che non posso utilizzarlo perché sto usando un video codec 265 quindi se voglio voglio visualizzare appena cambierò i vari log si potrà vedere l'impostazione come vedete il primo è disattivato perché per quello che è stato detto prima si può disattivare anche questo in questo caso questa è la reale visualizzazione dei log che faccio rivedere quelle opzioni che ho appena disattivato è un'opzione che serve per automaticamente colorizzare il log 400 come lo vedremmo una volta fatta la colorizzazione in post produzione questa è un'impostazione che si vede qui nelle view assist si può abilitare ea questo punto la visualizzazione appare molto più colo diciamo colorata però poi il video girato sarà come questo quindi a basso contrasto se vogliamo non curarci di questo aspetto torniamo indietro cambiamo il codec su 264 e a questo punto abbiamo la possibilità di scegliere fra questo colore che è il colore come viene fatto dalla macchina come se scattasse una foto quindi le impostazioni dirette oppure abbiamo la possibilità di scegliere sempre log di prima ma non abbiamo poi la possibilità di scegliere il l'ultima impostazione la 3 che era postazione piatta il mio consiglio di scattare con un codec 265 con logo o m e avete un video a basso contrasto bassa saturazione che poi colorizzerete in seguito altrimenti utilizzate il 264 e lasciate la macchina standard come con i colori che uscirebbero come in foto ecco come non jpeg per intenderci diamo dietro l'assistenza della vista l'ho già fatto vedere prima questo io consiglio di tenerlo o perché altrimenti sia una visualizzazione del nello schermo nel mirino falsata da questo assistente il bilanciamento anche qui è un po come nelle macchine nella fotografia potete scegliere le vostre impostazioni per me automatico va sempre bene anche perché poi effettuerò sicuramente un elaborazione del video in seguito però anche anche qui se non fate post elaborazione in seguito e volete far uscire il video così come esce dalla macchina fotografica volete diciamo pubblicarlo guardare il video come esce dalla macchina fotografica il mio consiglio è di lasciare in auto nel bilanciamento in auto delle olympus sempre andato piuttosto bene quindi ve lo consiglio in auto e poi abbiamo altre impostazioni fine se vogliamo settare il bilanciamento del bianco a mano questo io lascerei sempre off perché non sinceramente non riesco a comprendere perché abbiano implementato questa opzione dentro le macchine fotografiche olympus è una cosa che c'è da lunga data avere il worm sinceramente dei 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 colori mi sembra inutile anche perché se lo voglio posso fare post produzione andiamo avanti sempre sulle impostazioni video iniziano essere valori più interessanti possiamo selezionare gli iso automatici con limite maggiore e limite inferiore nei video io sinceramente non mi curo più di tanto lascio 12.800 e inferiore 200 che è quello nativo quindi se fa il video 200 meglio per me iso automatico sempre filtro del rumore io preferisco averlo su basso oppure su completamente spento anche perché come ha detto già in precedenza elaboro i video che scatto che riprendo quindi posso sempre effettuare questa elaborazione anche al computer però lasciarlo solo mi permette di avere già un video di ottima qualità o eventualmente spento diamo con la destra lo stabilizzatore dell'immagine questa è una cosa interessante da considerare abbiamo tre opzioni completamente spento in questo caso è corretto perché la macchina su cavalletto la prima è sensore e digitale quindi viene fatta una stabilizzazione data dal sensore quindi anche la stabilizzazione fisica più una stabilizzazione digitale quindi automaticamente la macchina cercherà di ritagliare una parte del video finché la stabilizzazione sia maggiore e sinceramente questo secondo me andrebbe evitato perché crea un ritaglio in macchina la stabilizzazione se mi serve fatta digitalmente la posso sempre fare a computer in seguito quindi la terrò su due in questo caso però sono sul cavalletto quindi preferisco di attivarlo completamente i livelli di stabilizzazione ma che io consiglio di tenerlo su 0 o sullo perché non voglio che la stabilizzazione incida troppo nei video piuttosto la tengo su basso ecco o su 0 0 credo sia al fine l'impostazione migliore per me che posizioni del suono secondo me qui c'è poco da modificare abbiamo rientriamo il volume io lo lascio impostato 0 il limitatore del volume si si può fare si può impostare senzalmente evita che ci siano di picchi di volume esagerati sinceramente dipende se se vedete l'audio direttamente in camera o meno fatta delle prove una leggera riduzione del rumore data dal vento la tengo e poi la frequenza di campionamento un 44 kg 16 bit non non mi serve che sia su superiore questa è l'impostazione che vi può essere utile se utilizzate un microfono esterno che deve essere alimentato in questo caso lo mettete suona altrimenti microfono non funzionerà essenzialmente non uso microfoni esterni quando faccio i video in camera perché essenzialmente faccio video in all'esterno in giro con solo la macchina quindi no per me dietro volume delle cuffie anche setting non lo conosco sicuramente non so cosa sia lo lasciato di default l'auto dell'hdmi questo può essere utile se come me in questo momento avete la macchina fotografica attaccata al computer state facendo registrazione oppure se avete uno schermino secondario atmos comunque monitor record row questa è una cosa interessante perché quando vi ho fatto vedere l'avevo impostato su monitor vi faccio vedere che voi vedete in questo caso esattamente quello che vedo io in camera quindi tutte le impostazioni della macchina fotografica l'output dell'hdmi vi servirà se registrate su device esterni torniamo dietro questi due non di uso non riconosco ecco questi sono assistenti del per i video del mark il marker per vedere il centro vedete una croce proprio nel centro del del video il pattern zebra impostando per esempio manualmente gli iso più alti vedo quali sono gli elementi che vanno in sovraesposizione ovviamente potete impostare nello zebra il livello che vi interessa anche due livelli però dovete riconoscere qual è la diagonale giusta questo caso abbiamo l'inclinazione in alcuni punti veramente fuori scala che ci dice che superano 105 per cento e l'altra inclinazione che ci dice che sono sopra il 90 per cento sinceramente io lo trovo troppo non essendo un videomaker faccio fatica già con uno figuriamo secondo in precedenza avevo provato fatto diverse prove con questo valore 95 mi sono trovato bene e già mi è sufficiente per capire che sto andando un pochino troppo sopra scala a seconda di come si scatta poi è anche utile curare l'esposizione sovraesponendo un po o meno a seconda perché in questo caso per esempio stavo scattando non usando un log ma ma usando la stessa impostazione come la macchina produrrebbe un jpeg diciamo usando questa impostazione cercherò anche di fare l'esposizione corretta se invece scattarsi con il log mi è stato consigliato di sovraesporre di uno stop fino anche uno stop e mezzo il video è stato consigliato così da un videomaker quindi un esperto io no faccio come dice lui ecco questo molto utile è il frame rosso mentre sto registrando quindi quando sto registrando si vedrà questo frame rosso tutto torno allo schermo trovo molto utile perché fa capire se sto registrando meno prima che in altre macchine dove non c'era questa impostazione mi è capitato di fare video senza accorgermi oppure di essere convinto che stessi registrando ma invece non stavo registrando quindi consiglio di utilizzarlo torniamo adesso bomba sul discorso dell'autofocus per i video autofocus per i video non si trova nel pannello del video ma si trova nel pannello autofocus nel punto 4 quindi dovete ricordarvi questa impostazione e ovviamente secondo me è semplicemente sbagliato visto che sono un pannello dedicato ai video secondo me dovrebbe essere il pannello video e esserci una voce autofocus invece non c'è vabbè modalità di autofocus interessante quando io utilizzo la modalità video scusate quando utilizzo la modalità fotogramma macchina fotografica normale ho la possibilità di utilizzare il riconoscimento dei soggetti in continuous autofocus che funziona benissimo però quando utilizzo la modalità video questo non è possibile con il continuous autofocus ma è possibile solo con il continuous autofocus più tracking non so perché mi sembra assurdo ma comunque così è quindi se come me fate video di avifauna e oppure volete fare video al vostro animale domestico mettete continuous autofocus più tracking altrimenti non vi farà non vi sfrutterà la capacità che acquista macchina fotografica di mettere a fuoco sui soggetti come gatti cani uccelli treni aerei tutto quello quello che avete a disposizione cosa strana ma così è per quello che riguarda la modalità riconoscimento del volto ecco in questo caso la macchina fotografica in continuous autofocus a rilevamento del volto però se voglio usare continuato focus con rilevamento del soggetto non posso quindi faccio vedere dove è l'impostazione io vado sul l'impostazione di autofocus andrò su il secondo elemento e sabio detection vedete è disattivato quindi clicco e mi dice l'oggetto non può essere selezionato per la seguente ragione e l'autofocus mode del video quindi andiamo in meno andiamo a selezionare l'autofocus mode che a questo punto bisogna lo trova nel modello nel menu autofocus bisogna andare qui su autofocus per filmati movi numero 4 e cambiare possiamo proviamo con il singolo poi andiamo indietro di uno ed è sempre disattivato sempre lo stesso motivo andiamo indietro torniamo alle impostazioni autofocus alla fine scegliendo il continuato focus più tracking avremo la possibilità di selezionare il soggette action questo caso per avifauna curiosità curioso sinceramente non capisco la motivazione però tant'è quindi se volete usare avifauna e video dovete mettere continuous autofocus più tracking e potete anche attivare lie detection frame questo nella modalità autofocus questo perché vi farà vedere il palli il quadratino di messa a fuoco sull'occhio del soggetto come si vede qui in questo punto la macchina fotografica secondo me è molto migliorata rispetto al passato per la modalità video al tempo stesso non raggiungere ancora i livelli di altre macchine in modalità video soprattutto per il fatto che i menu secondo me dovrebbero essere tutti insieme perché questo qui che è l'impostazione dell'autofocus per i video viene mischiato insieme a tutte le altre impostazioni di autofocus e se io devo cambiarla al volo mi trovo costretto ad andare a gironzolare nei menu e impazzire un po ecco quindi secondo me questo è un miglioramento che potrebbero fare a livello di menu oppure una cosa magari anche più furba che quando metto nella modalità video i menu si adeguino e mi faccia vedere soltanto le cose video però questo è andiamo avanti però c'è anche una cosa interessante da considerare utilizzando il custom mode le impostazioni dei video vengono salvate quindi se volete fare ad esempio video in slow motion con il custom mode potete farlo potete impostare nel custom mode 1 per esempio potete impostare che scatti video a 60 fps in cinema l'importante è andare nel menu nelle modalità video e selezionare la l'impostazione che desiderate dopodiché salvare il nel caso salvare il custom mode video un po cicciotto con tante informazioni però proprio avervi dato delle dritte delle informazioni per partire con i video perché comunque la macchina scatta degli ottimi video la qualità è molto buona l'unica cosa secondo me è da prestare attenzione soprattutto al discorso dell'autofocus perché l'autofocus come detto in precedenza l'autofocus va impostato su continua sto focus più tracking se vogliamo fare il voce o altre altri soggetti rilevazione di altri soggetti quindi questa impostazione va messa sempre su secondo me su continua sotto focus più tracking e così si toglie il problema e possiamo valutare anche la velocità dell'autofocus o la sensibilità sono due parametri io consiglio di partire sempre da zero ed eventualmente provare dopo vari tentativi a variarli però zero sono i loro parametri giusti zero sulla velocità dell'autofocus e zero anche sulla sensibilità adesso provo a cambiare autofocus di questo obiettivo che è un macro quindi piuttosto lento nel messo a fuoco e per in questo momento non sto ancora registrando e se faccio vedere cosa significa se ho metto fuori fuoco e poi spingo la registrazione la macchina sta registrando e premendo il tasto di messa a fuoco sta cercando qualche soggetto ma fa estremamente fatica ecco però una volta acquisito soggetto ce la fa una cosa interessante che io ho un punto di messa a fuoco molto piccolo stoppiamo la registrazione e ecco adesso ho impostato messa a fuoco su tutto il frame metto l'obiettivo completamente fuori fuoco questo è un obiettivo macro quindi farà fatica a mettere a fuoco lascio la macchina da sola non stato le mani riproviamo la macchina questo momento sta registrando e da sola cerca il soggetto e ha messo fuoco cambiare l'impostazione della stoppiamo la registrazione possiamo cambiare la velocità come prima metto la macchina inizia a registrare e la macchina non riesce a mettere a fuoco pingo il tasto di messa a fuoco ha messo fuoco quindi sinceramente non è tanto un problema di velocità di autofocus in questo caso ma è che sto usando un obiettivo macro e non è un fulmino di guerra e l'autofocus comunque quando si registra un video tendenzialmente è più lento quindi secondo me è più che altro una questione di riuscire a essere già a posto con la macchina nel punto nel punto giusto e magari utilizzare il fuoco manuale o prefago giare manualmente dopodiché la macchina sarà in grado di seguire il soggetto abbastanza bene almeno per la mia esperienza in avifauna la macchina è in grado di seguire abbastanza bene i soggetti con queste modalità bene ho detto parecchio forse dimenticato qualche cosa in qual caso scrivetelo nei commenti o fatemi sapere ciao